padre bacio allora i dubbi ora sono stati sciolti quindi sappiamo che i resti che sono nella cassa di zinco sono del beato ma che figura era chi era questo questo beato le poche notizie che anch'io so molto sommari sono del nome e della missione che lui aveva compiuto presso questo re alfonso d'arragona e il quale l'aveva mandato poi a papa martino quinto a roma e quindi siamo sempre nella prima metà del quattrocento però insomma il processo di beatificazione è un processo un po particolare insomma questo sarebbe un processo di conferma del culto eventualmente perché dovrebbe confermare una devozione mantenuta a lungo i secoli il mio auspicio è questo perché devo a partire da fano se è morto a fano con devozioni frati l'hanno conservato fino adesso la chiesa di santa maria 9 comunale allora è il comune che è responsabile provveda a metterlo nella chiesa di santi pietri in valle provvisoriamente poi quando deciderà il comune come fare cosa fare e allora lo trasferiranno nuovamente a santa maria nuova anche sulla cassa di zinco dove hanno preso è stata reperita c'è un po di mistero in realtà c'è scritto pompe funebri tonnelli pesaro ma nessuno si ricorda che proprio davanti alla porta del convento di santa maria nuova in via seravalle c'era il deposito delle casse funebri della ditta tonnelli di pesaro quindi c'era anche un rapporto tra la ditta e i frati no è chiaro non è che ha attraversato la strada per farsi dare una barra di zinco e mettersi i resti di questo santo frate no molto semplice